Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con Sonia Schellino, Assessora Welfare della città di Torino è venuta qui nella nostra serata a presentare il tema delle farmacie comunali e della prevenzione per la città Volevamo chiederle su cosa punta la città di Torino riguardo alla prevenzione e come vuole sensibilizzare le persone a riguardo Intanto buonasera a tutti, con momenti come questo servono proprio a sensibilizzare le persone, a far capire l'importanza di prevenire piuttosto che curare Prevenire vuol dire sia condurre degli stili di vita sani, con l'alimentazione corretta, con il movimento come l'esempio di questa sera La possibilità di camminare insieme ad altre persone, c'è anche un lato psicologico in questo Camminare con altre persone, stare insieme favorisce anche la socialità e non isolarsi garantisce anche la possibilità di ammalarsi di meno Io ci credo molto che stare insieme, condividere, scambiarsi la ricetta della nonna, fare una passeggiata, respirare un po' d'aria buona Sono tutti stili di vita che allontanano tutte quelle patologie legate alla tristezza, alla depressione, ai momenti così di solitudine Poi certamente non basta quello, ma favorisce un percorso di cittadinanza che è anche un elemento di buona salute E poi naturalmente quando uno si è mala c'è la medicina, sicuramente non basta una bella camminata I gruppi di cammino sono un'idea sorta da chi? È stato richiesto dalla popolazione oppure è stato un progetto che poi ha trovato accoglienza? È un progetto che ha trovato accoglienza, ci sono esperienze come queste anche in altre città Ci sono esperienze anche parallele all'interno dei parchi legate al mondo dell'assessorato allo sport C'è un movimento nazionale a livello di ANCI che propone anche le città attive dal punto di vista del cammino Come elementi così di buona salute, di buone pratiche Quindi si usa sempre di più, è un modo di fare sport in modo economico È un po' come una volta, si tiravano due calci e un pallone, i ragazzini si divertivano e non si spendevano delle cifre pazzesche Muoversi, camminare anche per una persona adulta è un modo per mantenersi attivo senza l'abbonamento in palestra Che poi va benissimo, però se si può già fare qualcosa a costo quasi zero è comunque una buona cosa Oltre a questo progetto che sta trovando grandissima accoglienza, ci sono altri progetti da parte della città di Torino? Noi i progetti li cerchiamo, ci sono in genere dei bandi, delle chiamate per progettualità in ambito sociale Anche di promozione della salute e ci avvaliamo della collaborazione di tutto quel mondo Del privato sociale, del volontariato che ci mettono a disposizione le loro competenze, le loro risorse E la città dà un piccolo aiuto che magari economicamente è veramente pochissimo perché non abbiamo molto Però la voglia di mettere in rete, di dare degli spazi, di dare dei luoghi d'incontro, le competenze di quelli che lavorano su questo tema è già qualcosa Un'ultima domanda più informale, cosa fa lei per la sua salute? Io cerco di mangiare decentemente cose abbastanza sane, poca carne, molta verdura, riso e cose del genere Poi cerco di muovermi il più possibile, mi sposto a piedi da casa all'ufficio tutte le volte che posso, cioè quasi tutti i giorni Cerco di camminare in montagna e respirare aria buona quando riesco a trovare il tempo per farlo Non fumo, non si beve un bicchiere di vino, quello sì ma poco, solo il giusto Cerco appunto di consumare materie prime sane, cose a chilometro zero che costano anche meno e sono più sane Una persona giusta ha il ruolo giusto Grazie mille, alla prossima Grazie a voi e buon anno Grazie a voi